Quando un membro della famiglia subisce un trauma, la guerra, carestie, o anche attraverso problemi interpersonali, appunto, in famiglia, ecco, in questa persona cambierà il modo come avverrà la lettura dei geni, cioè la codifica. E questo è il termine che si usa oggi per questo, è l'epigenetica, cioè il meccanismo con cui dei geni vengono spenti, oppure, quindi, vengono spenti o attivati. Io vi faccio un esempio. Allora, quando nascono i bambini, i nasi sono più o meno molto simili, e quando invece arriviamo all'età di 10 anni, il naso comincia a crescere. E cioè, sono tre geni che vengono attivati. Quando raggiungiamo i 18 anni, questi geni dovrebbero essere spenti. In alcuni di voi, appunto, non ha funzionato. E questo è un problema di epigenetica. Un altro esempio. Ecco, molti di voi hanno dimenticato la giacca, appunto, e quando uscite all'aperto, e improvvisamente c'è un vento freddo, devono essere attivati i geni che riscaldano il corpo, appunto, ormoni tiroidali, ormoni del surrenales, poi i vasi, appunto, la vascolarizzazione, appunto, i vasi si devono contrarre. Tutto questo viene regolato tramite attivazione e disattivazione di geni. E quando una persona viene traumatizzata, questo meccanismo viene, come dire, disturbato, barra danneggiato. E questo danno, appunto, non guarisce durante la vita della persona, appunto, e quando questa persona poi diventa padre, madre di un bambino, questo danno viene trasmesso, viene trasferito alla prole, non attraverso i geni, ma attraverso il loro controllo. E fino ad oggi non si sa, appunto, qual è il campo responsabile di questa regolazione genetica a livello di geni. Cioè, su quelli, sui geni che non vengono utilizzati, il corpo sovrappone un gruppo metilico. E per essere ben in salute, più del 99% dei nostri geni devono essere spenti, disattivati, altrimenti cresce il naso. Ma ha molti altri processi anche, molti altri processi che sono sfavorevoli, che sono negativi, o sarebbero negativi, continuano ad essere attivi. Quando nasciamo, abbiamo all'inizio circa 23.000 geni. Quando moriamo, i nostri geni sono molto più grandi, il pool dei nostri geni è molto più grande, diventano 40.000, 50.000. Questi geni sono tutti virus, batteri, sono agenti patogeni che si attaccano, o frammenti di agenti patogeni che si attaccano ai nostri geni. E l'epigenetica, appunto, serve a, come dire, sopprimere questi, o a tenere disattivati questi geni, queste sequenze. Esempio, un giovane soldato deve andare in Russia in guerra, ritorna all'età di 23, 23 anni, con traumi gravi. Vive normalmente, diciamo, ha un herpes, un'infezione da herpes, appunto, sul labbro, ha l'influenza due volte. Adesso, nel sistema, si sono annidati i virus, appunto, dell'influenza. Lo stesso vale per gli herpes, herpes virale, appunto, ma ha perso il meccanismo di disattivare questi virus. incontro una donna, lei diventa gravita, ha un figlio, hanno un figlio e questa incapacità di disattivare, appunto, i geni di questi agenti patogeni non viene trasmesso, appunto, al figlio. E poco dopo la nascita, appunto, il figlio ha già la febbre, i meccanismi di difesa non funzionano, non funzionano più. Il bambino, appunto, ha i parassiti, borigliosi, morbo di Lyme. E quando questo bambino raggiunge l'età di 25 e ha a sua volta dei figli, ecco, il primo, il primo figlio è autistico, oppure iperattivo, oppure ha delle allergie alimentari massicce, oppure incapacità a prendere, e questo è il mondo odierno, il mondo di oggi. Un po' di statistica, si è esaminato negli ultimi vent'anni, appunto, le persone di che cosa muoiono, quali sono le ragioni della morte, appunto. Ecco, il tumore come causa di morte è sceso, leggermente, anche le malattie cardiovascolari sono leggermente calate. Ecco, morte per patologie neurologiche è aumentato del 650%, 650%, la degenerazione cerebrale. Morbo di Parkinson, sclerosi multipla, morbo di Alzheimer, eccetera, eccetera, eccetera. E la vera causa di questo la troviamo nell'epigenetica. Dopo parlerò di mio padre, anche. Il suo padre, il padre di mio padre, appunto, era nella prima guerra mondiale, ha fatto la prima guerra mondiale, molto traumatizzato, danno epigenetico, mio padre è stato in guerra, seconda guerra mondiale, traumi gravissimi, danno epigenetico al quadrato. E poi ci sono io, la mia generazione, e io, ovviamente, questi danni li porto in me, li reco in me. E il danno principale nella mia generazione non è dovuto a guerre, ma a due fattori, e cioè la contaminazione e l'inquinamento ambientale, e l'elettrosmog, cioè la contaminazione da onde radio, con cui, ad esempio, quelli dei telefoni cellulari. Entrambi creano enormi danni epigenetici, per cui i miei figli avranno il danno di mio nonno, che viene moltiplicato, potenziato, appunto, da quello di mio padre, e ulteriormente potenziato, appunto, dal danno a livello epigenetico che io ho accumulato. Stephanie Senef è un nome molto importante. Negli Stati Uniti è considerata la principale ricercatrice, appunto, in questo momento. e opera nel settore delle scienze di computer. E lei ha fatto questi conti. E cioè nel 2025, e cioè tra dieci anni, tra soli dieci anni, un bambino su due avrà la diagnosi di autismo. e cioè i numeri di bambini autistici cioè raddoppiano ogni cinque anni. E il rapporto, tra l'altro, maschi-femmine dell'autismo oggi è 14 a 1. Cioè questo, appunto, convertendo queste cifre, appunto, questo significa che tra dieci anni uno solo su venti ragazzi sarà normale. Queste cifre sono note a tutti i governi. E fino ad oggi ogni governo occidentale, appunto, rifiuta di intervenire a questo livello. Beh, perché sono qui? Non è che sia... Non è un intervento su medicina ambientale, ma noi abbiamo visto che con il lavoro delle costellazioni siamo in grado, appunto, di fermare le conseguenze epigenetiche che abbiamo visto fino adesso. E cioè, vi ricordate, dai nonni, genitori, fino alla nostra generazione. Noi parliamo di trasmissione verticale. Quindi, trasmissione verticale, appunto, dei danni epigenetici viene completamente fermata. E la cosa sorprendente è che i bambini e i giovani riacquisiscono la capacità, appunto, di gestire i fattori di impatto ambientale. Anche a questo riguardo voglio darvi un esempio. Qui, appunto, parliamo un po' di scienza. Ecco. Università di Zurigo. Ecco, il primo sperimento, appunto. Queste sono cavie. Cavie. Dei piccoli di cavie sono stati traumatizzati. Eletroshock, appunto, era nella gabbia. Eletroshock uno o due volte al giorno per le prime due o tre settimane della loro vita. Poi, appunto, venivano, invece, curati e allevati con amore. E, beh, si è constatato che tutte queste cavie, appunto, quando erano adulte, avevano sviluppato delle paure, dei comportamenti di paura, appunto, delle neurosi. Delle nevrosi, scusate. E poi, appunto, quando questi rati, invece, ne erano a loro volta, avevano a loro volta della prole, appunto, questi piccoli venivano allevati con grande amore fin dal primo giorno. E, nonostante questo, appunto, anche queste cavie, quando erano adulte, sviluppavano lo stesso comportamento nevrotico dovuto, appunto, a paure. Tutti voi siete queste cavie. Questo è stato fatto, appunto, questo esperimento è stato fatto per sette generazioni di cavie. Tutte, appunto, tutte le cavie venivano trattate e allevate con grande cura, grande amore, eccetera. E non c'era nessuna riduzione della nevrosi. Perché questo? perché Berta e Sofino lavorano con le cavie. Interessante qui è che si è visto che questi piccoli, appunto, alcuni di questi piccoli venivano sacrificati sull'altare della scienza, naturalmente. E la modalità di trasmissione di questo comportamento nevrotico era, appunto, epigenetico. c'è la incapacità di spegnere, di accendere, cioè di disattivare e di attivare geni. Poi, questo esperimento è stato ripetuto a Washington. Cioè, è stato ridotto ad un'unica esperienza negativa della giovane età della cavia era sufficiente perché la cavia sviluppasse questa nevrosi che veniva poi o che viene poi trasmessa, appunto, senza soluzione di continuità. ma non realmente senza soluzione di continuità perché si è visto che da generazione e generazione appunto la fertilità di queste cavie diminuisce fino alla completa estinzione di questa famiglia di cavie. E cioè, come Berci ha insegnato già in precedenza in passato, la biologia è veramente crudele. Se c'è qualcosa che non funziona, zack. Adesso questo punto la medicina ambientale e si è fatto vedere appunto che anche le tossine appunto diciamo le contaminazioni chimiche appunto nel grembo materno anche queste intorsicazioni conducono a danni epigenetici che alla loro volta causano una decrescita della fertilità fino a quando appunto fino alla completa estinzione di questa linea della famiglia. E io adesso voglio diciamo fare un salto verso quello che volevo dire in realtà. in questo momento sono in corso tre grandi sperimenti con l'intenzione appunto di ridurre la popolazione mondiale. La cosiddetta agenda 21 che è pubblicata l'ONU e cioè per proteggere la popolazione mondiale dall'autodistruzione ecco sarebbe necessario ridurla la popolazione mondiale e non è sufficiente farlo in futuro in un certo qual futuro ma bisognerebbe ridurre la popolazione appunto in vita ora. Io ho questa pubblicazione se qualcuno è interessato e per raggiungere questo obiettivo appunto vengono utilizzati diversi approcci contaminazione anzi l'intossicazione del feto del grembo materno e sappiamo che quasi tutti gli agenti ambientali io ho imparato quando studiavo medicina che gli agenti appunto ambientali che nel grembo materno il feto sarebbe protetto e chi lo protegge sarebbe la placenta questo è quello che avevo imparato io ai miei tempi nello studio di medicina oggi sappiamo che questo non è vero il primo nato riceve due terzi della la carico contaminante totale della madre perché per questo anche sono i primi nati quelli maggiormente danneggiati e vediamo appunto molta guarigione nel lavoro sistemico cioè quando i secondogeniti terzogeniti si inchinano profondamente davanti al primo genito ringraziandolo appunto di portare lui il carico contaminante il carico tossico per aprire loro la vita se i fratelli sono capiscono questo che il primo genito è un po' difficile forse non è così intelligente e forse non è così creativo come loro come quelli che sono venuti dopo se quelli che sono venuti dopo capiscono questo possono essere grati sono capaci di gratitudine e questo può dare luogo a molta guarigione in famiglia che Grazie.